Ok, vai, prova a muoverti un pochino No, se devo suonare su questo Spegni pure Ok, ton 2 Non ci stanno Ton 2 Ton 2, suono loro Ton 1 SD Non ci stanno 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 Buona Allora tu giri stai andando con tutte e due Giusto? Ok quindi tattoo nomi Movimento 5 4 4 2 3 5 5 6 7 8 10 11 12 13 16 16 16 17 18 18 18 20 20 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 28 28 29 30 29 31 32 32 33 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.